Alfredo Gaetani, Presidente di Interporto Campano, quanto sono importanti eventi come questo, Presidente? Quanto è importante il ruolo di Interporto in un settore come quello della moda e abbigliamento, così fondamentale per l'economia? L'Interporto nasce anche da una creatura come il CIS, quindi diciamo che l'origine dell'Interporto non può essere dimenticata, non vogliamo dimenticarla ed è quella legata alla moda e a tanti operatori importanti e di successo, diciamo, di cui noi abbiamo il piacere di ospitare. Quindi è un evento importante per tutto il business, quello che noi chiamiamo Business Park di Nola, quindi CIS Interporto insieme, rappresenta una tappa fondamentale. Devo dire che l'anno zero fu molto importante l'anno scorso perché fu la prima, come dice la parola stessa, l'anno zero, la prima iniziativa, ma vedere oggi come già sta rispondendo ci riempie di orgoglio e di piacere per questo.